solo i complimenti per i nostri ragazzi un'altra battaglia secondo me molto ben giocata dai nostri giocatori a differenza di gara 1 abbiamo fatto più fatica a entrare in partita forse forse eravamo più nell'attesa nella mentalità nella forma mentisi di vedere che cosa loro ci avrebbero proposto dopo la vittoria di gara 1 piuttosto che come sempre pensare noi a costruire il gioco muovere la palla difendere con attenzione però siamo penso che abbiamo ripreso la giusta in ogni possesso del primo quarto sono molto contento sicuramente di come la squadra gioca con altruismo in attacco i ragazzi si passano la palla e si coinvolgono e in difesa siamo messi veramente alla prova da un livello di talento e fisicità da livelli di talento e fisicità molto molto importanti e su ogni possesso siamo veramente sotto pressione e schiacciati nella nostra area da una squadra che anche l'ultimo possesso è un esempio ha la prontezza di di fare sempre la giocata giusta poi per fortuna non sono riusciti a concretizzarla ma il fatto che che da una rimessa cinque secondi alla fine loro siano riusciti a costruire due tiri da tre punti per pareggiare la partita è un è un esempio di questa di questa loro grande capacità di fare le scelte giuste poi siamo stati siamo stati fortunati che che l'esecuzione è stata è stato un po da meno però e quindi si è concretizzata questa vittoria per noi per noi è veramente bello poter poter fare questo tipo di prestazioni che poi portano ai risultati sicuramente credo che in queste due partite abbiamo giocato bene sinceramente penso che in queste due partite su 80 minuti una buonissima parte di questi tanti minuti abbiamo giocato bene quindi per ah no però nel senso credo che abbiamo per ora legittimato queste due vittorie con un con un buon gioco adesso la sfida per noi è conservare la nostra identità sia come singoli giocatori che come squadra nell'ambiente più io dico sempre caloroso e non caldo perché perché caldo è un termine che non che non mi piace perché caloroso nel senso di di grande capacità di 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 supportare e spingere la squadra quindi in questo senso qui quindi questa è la sfida che abbiamo davanti sarà anche caldo c'è una parola che fa a questo livello penso che il più grosso punto interrogativo che che tutti hanno perché è un qualcosa a cui non ti puoi preparare cioè giocare a questo livello una cosa che qui non ti puoi preparare durante la stagione se sei pronto non sei pronto lo scopri a partite in corso quindi il grosso punto interrogativo la grossica la grossa verifica per per noi al per me come allenatore per noi come staff è quello di di capire quale livello di qualità di esecuzione di di precisione nel negli aspetti tecnici riusciamo ad avere tenendo un alto livello di durezza mentale e consistenza fisica quindi quanto più è alto il livello di integrazione tra queste componenti più si riesce a essere competitivi e questo è più che quello che serve è quello che dobbiamo scoprire in gara tre quale livello riusciamo dal punto di vista tecnico tattico a mantenere nella nella battaglia che ci apprestiamo a fare come non da meno anzi magari di più di quelle che sono state queste due partite assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo bisogna trovare il modo di 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 alzare il livello che sia fisicità che sia presenza mentale o che sia esecuzione tecnica tecnico tattica però bisogna alzare il livello sono assolutamente d'accordo bisogna ripartire da da due tre cose che si possono migliorare secondo me dal punto di vista strategico nel senso di tipo di partita che volevamo fare i ragazzi sia in gara 1 che in gara 2 sono stati bravissimi all'interno della strategia dobbiamo capire quali sono i margini di esecuzione che abbiamo cioè di di qualità dell'esecuzione che possiamo che possiamo aumentare prego hai parlato dell'ultima difesa chiaramente però due tiri da trecchi esecutivi sono stati veramente rischiosi chiedo se c'è qualcosa che non ha funzionato su quella rimessa sicuramente se puoi spiegarlo in maniera semplice no non lo so spiegare ma né in maniera se né in maniera razionale né in maniera semplice e poi anche la rimessa di Rosselli il recupero che ha fatto Rosselli ha prenduto quel valore che ha avuto da lei sì esatto la cosa che è il rimbalzo assolutamente assolutamente d'accordo però questo fisico mi ha permesso di stare fuori e giudicare e guardare poi in campo ci vanno loro nel senso i ragazzi quindi diciamo io da fuori con la mia bella pancia il mio bel vestito sto lì e guardo poi a fare a sportellate con Rosselli, Mancinelli, Cicciarini, Fulls, Okerefo, Ritaliano, Amici, Gandini, Chillo, Pini me ne sono dimenticato qualcuno sicuramente quindi ci vanno loro quindi bisogna anche capire il livello di di importanza della post in palio che sicuramente i ragazzi sentono perché ci tengono da morire a continuare a questa stagione ti chiedo un dato, in gara 1 39 a 11 della panchina oggi 42 a 22 punti pronti alla panchina la forza è una squadra in cui chi entra sa che deve produrlo in poco tempo è un po' anche la filosofia che hai tu visto sia in gara 1 che in gara 2 avete ruotato a 10 poi chi è entrato penso a Valentini, la tripla di Valentini dall'angolo è un po' l'immagine di questa situazione tattica Sì sì, sicuramente oggi non abbiamo nessun giocatore a 30 minuti, sono state alcune situazioni di falli però credo che la capacità dei nostri giocatori di interpretare il proprio ruolo che non è il ruolo nel senso di play guardia o ala ma nel senso di parte all'interno della squadra ognuno con le proprie caratteristiche e con la propria identità a livello individuale di cui quello che non snaturarsi mai va al di là dei minuti, ecco, quello è importante e penso che la cosa più importante è il fatto che i giocatori si fidino tra di loro cioè se un giocatore che magari l'altro ieri ha giocato un po' di meno, oggi è stato in campo di più la percezione che ho io è che negli altri compagni non ci sia il panico che questo stia in campo due minuti in più ma si fidano tra di loro l'alternativa non è che ce n'è tanto, si fida o non si fida no, però a parte la battuta questa è la nostra identità posto? non so, buon lavoro a tutti, buonasera, buonanotte grazie